In Valle d'Aosta spicca nel settore carni trasformate il Valle d'Aosta Lardo di Arnà DOP, l'unico DOP di una nazione di origine protetta in Europa. I consumatori sono oggi sempre più attenti agli aspetti nutrizionali degli alimenti e quindi anche al loro contenuto in sale che presente nelle elevate concentrazioni rischia anche di penalizzare le caratteristiche aromatiche e organolettiche. Attraverso uno studio specifico si è pertanto cercato di comparare i metodi di produzione del Valle d'Aosta Lardo di Arnà DOP attualmente adottati con la tecnica tradizionale. Si è quindi cercato di chiarire con metodo scientifico l'effetto è esercitato dalla temperatura delle salamoie e dalla quantità di sale in esse utilizzato sulle caratteristiche chimiche e tecnologiche del Lardo verificandone anche gli aspetti sulle sue caratteristiche organolettiche. Queste prove di salature in modo scientifico e sperimentale sono state volute dal comitato LODOI, il comitato che è in possesso del marchio DOP Lardo di Arnà. Sono intervenuti lo IAR, l'Istituto Agricolo Regionale, l'assessorato all'agricoltura della regione autonoma Valle d'Aosta e l'Università degli Studi di Milano, il Dipartimento di Scienze Veterinarie e Sanità Pubblica. Siamo con Roberto Del Col che è ricercatore dell'OIAR, l'Istituto Agricolo Regionale. Allora da cosa nasce questa sperimentazione, questa ricerca? Qual è soprattutto lo scopo? La ricerca nasce da una richiesta che è dal comitato LODOI che negli anni si era posto diversi inquisiti per quanto riguardava la concentrazione di sale e il gusto finale che poteva avere il consumatore finale. Per credenza noi siamo sempre abituati a pensare che più metto sale più il prodotto diventa salato. In realtà questo studio, lo scopo della ricerca è stata quella di vedere i diversi metodi di maturazione del prodotto con la quantità di sale. In poche parole quello che si è voluto vedere è se la temperatura di maturazione, una maturazione fatta in cantina a 13 gradi centigradi o fatta a 2 gradi centigradi, quindi la temperatura controllata, potesse essere significativa in funzione della quantità di sale messa all'interno di ogni singolo DOIL che sono nient'altro che le casse di legno che sono utilizzate per la maturazione nei tre mesi di stagionatura dell'arto stesso come da disciplinare DOP. Quindi l'Istituto Agricol ha messo in piedi una ricerca per valutare queste due variabili, una la temperatura di maturazione e la quantità di sale in saturazione oppure un sale di tipo controllato. Questo è un primo approccio naturalmente e quello che diciamo è uscito è che come intensità di sale in bocca sia al degustatore che a livello diciamo di analisi chimica quindi di laboratorio effettivo il prodotto diciamo a fine maturazione quindi si parla a tre mesi come portarlo anche più avanti a 4 o 6 mesi il prodotto in saturazione a 13 gradi al palato risulterebbe più dolce al contrario del prodotto messo in saturazione o in sale controllato a 2 gradi centigradi quindi a una temperatura di tipo controllato. Naturalmente questa è una parte iniziale che dovrà evolversi con lo studio appunto di durabilità del prodotto quindi di shelf life sullo scaffale e visto che è un prodotto che non può essere venduto tal quale bensì messo sotto vuoto vedere anche se il confezionamento quindi la fase insomma di vita restante del prodotto sia a casa del consumatore come sul bancone del supermercato qual è l'evoluzione di questi due diversi tipi di produzione quindi a 13 gradi a 2 gradi con le diverse insomma quantità di sale all'interno del prodotto. È stata una ricerca decisamente potrei dire anche entusiasmante perché i dati che abbiamo seguito oggi sono veramente molto interessanti quindi possiamo dire che tutto questo serve per migliorare il prodotto per dare quella diciamo morbidezza a livello organolettico a livello di palato un gusto tra virgolette un po' richiesto dal consumatore che cerca sempre magari il meno salato il più dolce il più aromatico. Sì oltre che diciamo una richiesta del consumatore stesso quindi un gusto personale c'è anche insomma anche l'esigenza salutistica oggi che un po' tutti i prodotti alimentari sono prodotti dove si va a ricercare la concentrazione di sale si va a vedere la quantità minima di sale appunto che il nostro organismo può assorbire visto che nella dieta normale nelle 24 ore noi lo assumiamo da moltissimi prodotti. È logico che questo va incontro sicuramente al gusto del consumatore anche perché il lardo degustato così tal quale non accompagnato quindi da pane o altro può risultare avere dei picchi quindi di sale. Il fatto di riuscire a controllare anche questo può sicuramente per un prossimo futuro sicuramente migliorare anche la qualità stessa del prodotto. Uscendo un po' fuori della sperimentazione, solo per diciamo a titolo informativo per quanto riguarda il consumatore si pensa che il lardo sia grasso, che sia carico di colesterolo mentre non è così? La matrice se si parla così di grasso, di lipido e di lipidi è logico che la percentuale preponderante sono quelli però i grassi esistono come si sa ben bene, ci sono grassi buoni e grassi cattivi quindi sicuramente la componente di grassi buoni ce l'ha anche il lardo e quindi è un prodotto che consumato al giusto quantità non può fare altro che bene insomma come tutte le cose credo che come diceva mia nonna insomma la cosa giusta e sbagliata non è ancora nata basta avere un certo equilibrio del tutto insomma senza andare negli eccessi questo non credo che insomma vada male ecco. Sarà Pansieri dell'Università di Milano che ha portato avanti con l'OIA era un po' diciamo questa prima fase della ricerca, di questa sperimentazione per quanto riguarda diciamo l'assalatura del lardo. Quali sono diciamo gli aspetti più importanti e più significativi che sono risultati da questa prima inchiesta? Dalla ricerca innanzitutto è emerso che applicando diverse concentrazioni di salatura abbiamo una modificazione del prodotto sia in termini chimici che a livello aromatico questo vuole essere un primo passo di approfondimento e devo darlo ad appunto ai produttori che si preoccupano sia di informare il consumatore sia proprio di approfondire la qualità del proprio prodotto infatti assieme allo studio della Salagione abbiamo portato avanti un importante studio di caratterizzazione dell'ardo di Arnada che ad oggi non era ancora stata fatta con anche un modello di autenticazione che permette la tipizzazione e la difesa del prodotto essendo questo un prodotto caratterizzato da denominazione di origine protetta che credo che ad oggi fittandone verso Expo 2015 dobbiamo essere conci appunto di portare avanti la difesa dei prodotti italiani. Quanto è importante la temperatura? La temperatura credo giochi un ruolo condizionante sia nella preservazione delle caratteristiche aromatiche sia come abbiamo visto nel processo osmotico di presa del sale quindi di movimento del sale all'interno della frazione lipidica del lardo Sono stati paragonati diversi tipi di lardo i tre produttori di Arnada più altri che arrivano da altre regioni e da altri paesi c'è stata una netta differenza proprio che è risultata addirittura all'occhio quindi anche qui diciamo che la tecnica e la scienza entrano in campo a difesa e a tutela del prodotto, del consumatore ma per far risaltare anche tutte quelle qualità che effettivamente si parte dalle qualità iniziali quindi dal maiale, quindi da come viene nutrito fino ad arrivare alla lavorazione dei nostri artigiani del lardo che mantengono un prodotto che è al di fuori del normale? Questo innanzitutto deve essere un premio ai produttori perché lavorare lungo la filiera quindi nella concezione From Farm to Fork porta al fatto che se appunto un prodotto viene riunito all'interno e racchiuso in un disciplinare di produzione vuole difendere l'autenticità dei propri prodotti che derivano appunto dall'allevamento, dall'alimentazione quindi anche dal processo peculiare di trasformazione ovviamente il prodotto, la verifica, il semaforo verde ce lo danno alle analisi innovative finali che effettivamente differenziano sostanzialmente il prodotto da altri ma proprio perché questo prodotto è governato sia da un processo di produzione quale anche la spezzatura e tutto quanto sia omogeneo all'interno dei produttori questo è un pregio nel momento in cui i produttori si riuniscono avendo un disciplinare sia difesa delle proprie tipicità che ovviamente si devono ben differenziare da altri prodotti appunto che hanno caratteristiche diverse Siamo con l'assessore all'agricoltura della regione Tornomare da Osta, Renzo Testolin Abbiamo seguito un pochino questa analisi, queste prove, questa sperimentazione per quanto riguarda l'assessore dell'ardo di Arnà che voglio ricordare è un lardo Arnà unico DOP a livello europeo fatto in Arnà, un piccolo comune della Valle d'Osta, della bassa Valle d'Osta 2500 abitanti che però comunque è portato sulla bocca di tutti per quanto riguarda non solo l'ardo ma anche per quanto riguarda il comune che è un bel comune diciamo a vocazione turistica La regione si impegna a portare avanti l'OIAR quindi l'istituto agricolo regionale quindi finanziando questa ricerca e questa sperimentazione Perché si è voluto arrivare ad approfondire questo tipo di ricerca, di sperimentazione per quanto riguarda la salatura dell'ardo? Credo che un'analisi vada fatta un po' a 360 gradi su quello che è il discorso delle DOP in Valle d'Osta Il lardo rappresenta una delle quattro denominazioni di origine protetta presenti sul nostro territorio che sono diciamo uno dei simboli principali di quello che è l'esportazione della Valle d'Aosta all'esterno dei confini regionali quindi in Italia e nel resto del mondo Il lardo come le altre DOP ci ha permesso di far conoscere la nostra regione al di fuori della nostra valle all'interno ha permesso di creare grazie proprio allo sviluppo che c'è stato nello specifico ad Arnà per quanto riguarda il lardo un'industria quindi creare dei posti di lavoro e della qualità che viene prodotta esclusivamente in Valle d'Aosta perché investire in questa ricerca perché e soprattutto chi ha voluto questo tipo di ricerca una cosa da sottolineare è senz'altro quella che l'Odoil, l'associazione che cura da sempre la caratteristica dell'ardo di Arnà è stata quella che ha voluto questo tipo di approfondimento scientifico un approfondimento scientifico che è stato sapientemente curato e gestito dall'Istituto Agricolo Regionale penso uno dei fiori all'occhiello di quella che è la ricerca in Valle d'Aosta soprattutto in campo dei nostri prodotti tipici i nostri prodotti caratterizzanti una ricerca che dovrà dare delle risposte ai produttori che erano presenti oggi in questa giornata e che sono molto attenti a questo tipo di ricerca scientifica che può dare delle risposte per quello che è la produzione ma anche per quelle che sono le caratteristiche dell'ardo che bisognerà andare a piazzare sul mercato con delle qualità pregnanti che ne valorizzino ancora di più la sua possibilità di vendita credo che da oggi siano uscite degli elementi fondamentali per proseguire poi questa ricerca da un lato ma dall'altro soprattutto per sottolineare la tipicità di questo nostro prodotto che così come è stato evidenziato in questa giornata presenta da un punto di vista anche chimico quindi scientifico una tipicità, un'unicità che lo rendono diverso da qualsiasi altro tipo di lardo presente sul mercato quindi ancora una volta una DOP valdostana che potrà essere ulteriormente valorizzata che potrà portare ancora il nome della Valle d'Aosta in Europa e nel mondo Ivo Gioli è vicepresidente del comitato Lodoi il comitato che è il proprietario del marchio DOP Lardo Di Arnà allora diciamo che questa diatriba più sale, meno sale come è nata e cosa vi ha portato per indurre le istituzioni agricole e anche l'Università di Milano per portare avanti questa sperimentazione? Ma niente, il fatto che ci troviamo qua è perché assaggiando i vari lardi si trova sempre con cui dice ma questo è salato e questo qua è troppo salato e noi come sull'Odoi facendo il lardo a casa a livello casalingo abbiamo scontrato che le nostre produzioni tendenzialmente erano sempre un po' meno salate quindi parlando un po' con gli istituti si è detto perché non fare una prova per capire quale può essere il fattore che influenza la salatura e da qui è nata questa collaborazione con gli istituti che ha fatto questa ricerca che ha dato dei risultati che vanno ad avvalorare il fatto che ha delle temperature diverse e la salatura è diversa quindi questo ci farà pensare sul dopo per come continuare anche per la DOP non è detto che possiamo anche fare delle variazioni se tutti siamo in sintonia che vadano a valorare il fatto che le temperature diverse di una salatura è diversa e soprattutto fare un prodotto con meno sale ecco diciamo tutto questo per valorizzare le proprietà organolettiche del sale quindi renderlo diciamo tra virgolette più disponibile per quanto riguarda il consumatore meno sale vuol dire anche mantenere decisamente il lardo più dolce più morbido più piacevole al salato al palato ma soprattutto anche a salvaguardia della salute perché troppo sale diciamo non fa bene sì tutti e due i fattori il fatto che comunque tendenzialmente si consumino i prodotti con meno sale questo quindi è già un fattore ma il lardo di Arnà quando è troppo salato non si abbina bene col pane o comunque con i vari accompagnamenti il fatto di dare un prodotto più dolce propone di avere un prodotto più amabile e molto più più buono al palato non dimentichiamo che il comitato Lodoi organizza da circa 50 anni anche la festa del lardo di Arnà una festa forse una delle più importanti della Valle d'Aosta che anche qui vuole mettere e valorizzare questo prodotto ma non sono tutti i prodotti del vostro territorio possiamo dire che il territorio di Arnà a 360 gradi è alto sufficiente quindi producete di tutto però questa festa diciamo è un fiore all'occhiello la festa praticamente è la promozione in 3-4 giorni tutto quello che Arnà può dare negli altri 360 giorni quindi ad Arnà il lardo è un pretesto è comunque anche un prodotto che fa da locomotore e dietro ci attacchiamo i salami la fontina il vino e ad Arnà troveremo tutto alla festa del lardo concentrati ma anche negli altri giorni ecco la particolarità che ci sono anche dei piccoli produttori non solo quello che a livello industriale ormai fanno conoscere il lardo di Arnà in tutto il mondo dei piccoli produttori che producono diciamo per la famiglia per gli amici che in quell'occasione mettono a disposizione del pubblico dei turisti il loro lardo decisamente è particolare che non si trova in commercio però fatto diciamo con queste ricette che risalgono da centinaia di anni infatti alla festa del lardo troviamo tutti i piccoli produttori che in quel giorno vanno a promuovere i loro prodotti che hanno fatto nelle loro aziende in quei giorni lì partecipano anche i produttori più artigianali però sono a collaborazione non sono i loro diretti promotori e tra l'altro voglio ricordare che la festa del lardo è sempre l'ultima domenica di agosto e se vi capita visitate il sito www.festalardo.it non solo l'ultima festa ma durante tutta la settimana che precede l'ultima domenica di agosto diciamo che si possono degustare piatti tipici della tradizione come zuppe come insaccati diciamo cose particolari che difficilmente si trovano in commercio e solo nell'occasione della festa del lardo vengono praticamente messe a disposizione per la degustazione del pubblico Guido Bertolena è un produttore del lardo di Arnaldi OP allora quali sono le conclusioni quali sono le particolarità di questa ricerca di questa sperimentazione che è stata presentata oggi per quanto riguarda la salatura del lardo ma io credo che questo sia veramente un punto di partenza nel senso che questo gran lavoro che è stato fatto dall'Istituto Agricola e dall'Università degli Studi di Milano ci dà a noi degli strumenti a noi produttori degli strumenti per poter valutare la possibilità di migliorare di ottimizzare quello che è già stato fatto finora noi dobbiamo tenere conto che forse a differenza di chi si è fatto promotore per questa ricerca che è appunto il Comitato del Lardo che produce e vende il lardo durante i 4 giorni noi produttori dobbiamo produrre e vendere il lardo 365 giorni all'anno quindi è importante che si riesca a trovare un equilibrio appunto nella fase di produzione che ci porti ad avere un prodotto finito che non sia sicuramente troppo salato ma che non sia neanche dall'altra parte il rischio che possa diventare arancido come abbiamo visto quindi il lavoro che comincia da adesso in poi secondo me sarà quello da parte dei produttori di ottimizzare la produzione e trovare l'equilibrio giusto per avere un prodotto finale che sia apprezzato dal consumatore anche perché il consumatore non dimentichiamo che ormai si è abituato a vedere lardo di Aranà con un po' di magro queste prove sono state fatte su un prodotto esclusivamente diciamo lardo senza la parte magra quindi solo la parte grassa questo comporta il fatto che bisogna provare e riprovare anche nella metodologia utilizzata dai produttori che comunque sono quasi obbligati a lasciare un po' di magro sopra queste baffie di lardo perché il consumatore compra anche con gli occhi quindi un po' di magro bisogna lasciarlo per forza dobbiamo lavorarci e cercare di avere un prodotto non troppo salato un'ultima battuta sono oltre 50 anni che la famiglia Brattolain porta avanti il discorso non solo del lardo ma comunque anche tutti i vari insaccati il lardo comunque è diciamo il vostro fiorell'occhiello in 50 anni avete fatto diverse sperimentazioni diverse prove voi sulla vostra pelle direttamente siete arrivati ad oggi che avete diciamo lo dico io il top secondo me del lardo a livello organolettico a livello di profumi a livello di presentazione diciamo come dicevi giustamente l'occhio vuole la sua parte quindi cosa c'è cosa si può come si può intervenire per eventualmente ancora migliorare e cosa si può migliorare se si è arrivati a un livello già di eccellenza secondo me l'importante è riuscire a mantenere sicuramente questo livello che abbiamo raggiunto in tutti questi anni sappiamo benissimo che le caratteristiche che si possono avere su un prodotto finito non dipendono esclusivamente solo dal metodo di salatura ma dipendono senz'altro anche dalla tipologia delle carni delle materie prime che vengono utilizzate quindi di conseguenza dal tipo di allevamento che ha avuto il suino e non da meno anche dall'età che ha il suino quando viene macellato le ricette tradizionali quando abbiamo cominciato quando la mia famiglia ha cominciato a produrre lardo 40-50 anni fa erano tutti suini locali che arrivavano a un anno di età prima di essere macellati adesso i suini che vengono acquistati da noi produttori che provengono dalle 5 regioni come prevede il disciplinare sono comunque suini che arrivano a 9-10 mesi di età quindi anche la parte sia di carne che di grasso che c'è all'interno di questi suini non è così matura come potevano essere appunto i suini che venivano macellati 20-30 anni fa torno a ripetere è importante che il produttore sia sempre molto molto attento all'acquisto delle materie prime che cerchi di avere la sua ricetta ormai consolidata modificandola ma senza stravolgerla